Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai farlo. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Mi chiamo Nicole e sono nata il 24 aprile del 2000. Abito a Stanieri Volterra, un piccolo paese dove si respira ancora all'aria di una volta. Abito a pochi metri dalla palestra, quella che ormai è diventata la mia seconda casa, dove tutto è iniziato e dove è nato il mio sogno. Ce l'ho messa tutta, veramente. Sto crescendo e continuo a farlo perché non ho mai smesso di crederci. Grazie. 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 Grazie.